Preparati questo ristorante Bellini del Libertitaro a terra. Il ristorante è bellissimo, vedremo alla fine se il cibo può rispondere a che tanta roba. Nelle cazze particolari. Come? Come vedremo a fare una recensione molto ma molto ma molto buona. Eh sì. La clientela c'è, c'è. Sotto fondo musicale in italiano. Lo dice Raffaele Autonomio, la clientela c'è.